il titolo accendi un gene a tavola beh io sono partito da questa foto che è una foto della mia famiglia che ho trovato in un cassetto è una foto del 52 dove racconta una famiglia molto numerosa nessuno è obeso sono tutti conviviali felici e presentano dei grappoli d'uva e sono stato a pensare a questa foto e a pensare anche a quello che diceva marcel proust marcel proust diceva riceviamo dalle nostre famiglie così le idee di cui viviamo come le malattie di cui moriremo e quindi questa foto mi ha ispirato il talk di oggi le radici sono importanti ma sono tutte beh parlando di radici parliamo di genetica il nostro dna quello che noi abbiamo ottenuto in parte materno in parte paterno non ce lo cambia nessuno dio ci sono degli insulti che ce lo possono cambiare come le mutazioni ma tendenzialmente quello resta anzi ci auguriamo che resti a lungo però un argomento molto importante come l'espressione la decifrazione della informazione presente nel dna possa essere letta correttamente e quello che determina questa lettura corretta e l'interazione con l'ambiente e infatti l'ambiente ci condiziona fortemente oggi tutti noi siamo condizionati se avessimo avuto una donna gravida sarebbe stata condizionata due volte no e che cosa l'epigenetica che è la scienza molto vecchia parliamo degli anni 40 quando fu coniata la parola studia studia qualcosa che va al di là del gene un altro elemento molto importante il tempo vi ho parlato di una foto del 52 non c'erano obesi erano felici famiglie unite numerose a settembre dopo la vendemmia mostravano un grappolo d'uva ma il tempo importante si è visto anche per distinguere gli effetti dell'interazione tra gene ambiente si sono identificati una serie di finestre finestre estremamente piccole nell'ordine dei millisecondi che ad esempio regolano il network per il neurale a livello cerebrale o finestre che riguardano un tempo da minuti a ore qualora noi volessimo esprimere dei geni come in questo caso l'esempio sono delle cellule del sistema nervoso centrale esposte alla cocaina che esprimono immediatamente dei geni che ne cambiano completamente la storia oppure nell'ordine di mesi giorni o anni quando parliamo dei ritmi circadiani è molto importante quando mangiamo se abbiamo dormito bene se non viviamo una condizione di stress e se siamo in pace col mondo per poi parlare di un tempo intergenerazionale la gravida la gravida è un tesoro importante perché garantisce la vita ma soprattutto la salute della specie perché ciò che l'ambiente determina nel feto durante la vita neonatale quel feto se lo porta dietro fino alla sua terza generazione quindi è una modifica ereditabile e poi c'è un tempo trasgenerazionale c'è uno studio molto interessante dove addirittura l'espressione genica del nipote risente dello stress che il nonno ha subito durante l'olocausto ci sono degli studi molto interessanti si parla in questo caso di un in tempo un effetto trans generazionale per poi arrivare addirittura a interessare l'evoluzione ma non parleremo di questo quindi epigenetica come tu puoi cambiare i tuoi geni e cambiare la tua vita cambiare i propri geni significa essere più o meno esposti a delle malattie essere più o meno suscettibili a degli stress essere anche più o meno produttivi sul posto di lavoro anche poter essere più o meno competitivi è importante dire che se tanti capolavori sono figli di un errore questo anno è venuto a mancare il padre del tiramisù e il tiramisù è un dolce che nasce dall'errore si racconta che del mascarpone scivolò da un cucchiaio in una tazza con uova e zucchero si resero conto che era buonissimo lo spalmò sul savoiardo e nacque il tiramisù una ricetta trevigiana tutta italiana nata da un errore ma anche il ghiacciolo nasce da un errore e quale un ragazzo mise il cucchiaio con la miscela che doveva girare frizzante fuori dalla finestra rimase tutta la notte si ghiacciò lo riportò dentro tirò fuori inizio a leccarlo e disse caspita è buono quindi nacque il ghiacciolo però tanti altri sono frutti del caso beh io vado spesso in canada dove interagisco con dei colleghi dell'ottava university come del San Bonifer Research Hospital che studiano anche questo l'interazione col cibo e mi piacciono molto alberi come questo che sono degli aceri e soprattutto nel periodo autunnale noi vediamo questo cambio di colori e lo stesso cambio di colori che noi ritroviamo ad esempio nei cromosomi all'età di 50 anni di gemelli identici cioè che hanno lo stesso DNA vedete ci sono delle zone più verdi che stanno a indicare una minore metilazione quindi incarceramento del DNA e delle regioni scusate maggiore delle regioni rosse che indicano una minore metilazione vedete però lo stesso cromosoma in questo caso il cromosoma 17 com'era quando erano bambini erano completamente diversi eppure il DNA è lo stesso eppure è cambiato qualcosa e questo qualcosa è stato determinato in questo caso dall'età cioè l'invecchiare come fa venire i capelli bianchi e così determina dei cambi a livello di espressione del gene di un DNA che non si modifica resta sempre lo stesso ma si decodifica in modo diverso è come se io andassi a leggere la pagina 2 piuttosto che la pagina 4 e questo è dato da delle reazioni biochimiche vere e proprie metilazione chiusura del DNA e acetilazione apertura del DNA vedete questo è un altro esempio, gli studi sui gemelli monocoriali sono stati importanti cioè individui che hanno lo stesso DNA vedete si parla di epigenoma cioè caratteristica di reazioni chimiche a livello del DNA quei colori che vi ho fatto vedere alla nascita sono uguali vedete acetilazione e metilazione poi vengono esposti a due ambienti diversi in ambienti tipo A in ambienti tipo B il primo presenta un aumento dell'acetilazione quindi una maggiore predisposizione alla traduzione dei geni il secondo un aumento della metilazione vedete il fenotipo cambia uno invecchia prima nella presenza della metilazione cioè assenza di traduzioni informazioni e uno invecchia più tardivamente a parità di età però vedete io sono un anestesista vi sto parlando di questo si traduce questo anche nel mio lavoro vedete che il primo è più resistente al dolore al dolore di una chirurgia il secondo è più sensibile eppure hanno lo stesso DNA cosa è cambiato è cambiato come questo DNA si rende leggibile e questo è dato dall'interazione con l'ambiente e nell'ambiente negli stili di vita c'è l'alimentazione ovviamente questo è una slide molto interessante che riassume come se noi mangiamo del cibo salutare vedete essenzialmente vegetali frutta non vengono triggerati i geni dell'obesità cioè non vengono tradotte quelle sequenze del DNA che esprimono dei geni che ci fanno ingrassare mentre se noi seguiamo una dieta unhealthy che però ci piace molto per il gusto a dire che il gusto non ci aiuta da nessun punto di vista vedete vengono triggerati quei geni che inducono l'obesità quindi voi condizionate avete il futuro nelle vostre mani e le gravidi hanno il futuro anche delle generazioni che verranno successivamente vi porto un esempio nel laboratorio io ho fatto il liceo classico sono rimasto estremamente affascinato da Plinio il Vecchio Plinio il Vecchio è stato per me un ispiratore perché se voi leggete i suoi scritti ci sono una serie di suggerimenti ad esempio i semi del coriandolo sotto il cuscino mentre si dorme fanno rilassare in realtà il coriandolo che è divisivo nel gusto in realtà rilassa ha un effetto importante sui disturbi psichici però lui non lo sapeva si basava forse su un criterio osservazionale ma Plinio il Vecchio descrivendo i gladiatori inizia a parlare dell'orzo l'orzo come foriero di una chiave questa chiave è il beta glucano è un disaccaride che entra nel lucchetto del mio nucleasoma cioè questo composto di DNA e proteine e me lo apre me lo svolge come favorendo delle acetilazioni cioè dona dei gruppi acetilici come si accendono le lampadine di un albero di Natale e questo nucleasoma si rende disponibile alla decodificazione dell'informazione e diceva che i gladiatori si cibavano esclusivamente di pasti a base di orzo pane d'orzo la gladiatoria ci aveva l'orzo la birra che bevevano era un fermentato d'orzo ma non mangiavano carne ad esempio ma erano sempre così gaiardi come dicono a Roma e soprattutto resistente alle malattie questo lo incuriosiva molto e ha incuriosito anche me tant'è che l'ho studiato il beta glucano d'orzo l'ho studiato seguendo un approccio cartesiano così come si fa con i farmaci io mi occupo di cardioprotezione perioperatoria cioè come far indossare l'armatura al cuore difendendolo in presenza di uno stress come quello chirurgico e ho visto nelle cellule, nei pesci, nelle cavie e poi nell'uomo con un trial clinico che l'assunzione per tre mesi, ovviamente negli animali prima un mese di tre grammi di beta glucano d'orzo sono in grado di indurre l'espressione, triggerare l'espressione di geni che proteggono il nostro cuore come andando ad acetilare, aprire, rendere disponibile, condividere l'informazione ai fattori di trascrizione questo è un esempio anche di collaborazione con l'impresa perché una ditta ha sviluppato una pasta che permette di veicolare ogni 100 grammi, 3 grammi di beta glucano d'orzo e quindi la ricerca collabora con l'impresa per dare al consumatore un qualcosa di validato sull'evidenza scientifica però è tutto partito da Plinio il Vecchio e i suoi gladiatori per dire come l'informazione venga tramandata anche senza un'evidenza scientifica chissà come mai poi l'abbiamo persa a tavola quando? Perché abbiamo parlato di accendi un gene a tavola quando? beh, quando siamo affamati, senza dubbio dovete sapere che recentemente nel 2020 abbiamo avuto un aumento del 12% delle cosiddette incongruenze alimentari la fame nel mondo e quello che vediamo nel nostro organismo è che quando uno è affamato lo sappiamo perché parte un input al nostro cervello con un ormone che viene prodotto a livello del nostro stomaco che si chiama grelina la grelina stimola l'ipotalamo e a quel punto noi iniziamo a mangiare siamo affamati anche perché produciamo un altro ormone che è tipico del tessuto adiposo che è la leptina quando ci sediamo a tavola anche quando siamo sazi ci sediamo per gola si chiama food craving certe volte cioè quando noi desideriamo per gola vogliamo mangiare qualcosa anche se non abbiamo fame perché abbiamo uno stress perché abbiamo anche ad esempio le donne in gravidanza hanno la voglia come si dice però c'è molta gente che si siede a tavola e bisse il pasto semplicemente per una questione di gusto beh non è una cosa salutare la Cornell University ha dimostrato che se io mangio senza aver appetito sono più suscettibile a sviluppare diabete soprattutto ad aumentare i livelli di glucosio nel sangue e nel caso della sazietà perché sono sazio quando io mangio e distendo lo stomaco a questo punto si riducono i livelli di grelina quindi il trigger a livello dell'ipotalamo e il tessuto adiposo inizia a rilasciare leptina questo in condizioni normali un soggetto obeso, diabetico come sviluppa un'insulino resistenza può sviluppare una leptino resistenza per cui perde questo meccanismo di controllo come faccio a mimare le condizioni del digiuno date ad esempio dalla sazietà in posto o in dotta beh ci sono degli alimenti che sono in grado di simulare e questo perfettissimo quadro regolatorio cioè di ridurre la grelina e di aumentare le leptine e quindi di indurre la sazietà lo zinco presente nelle ostriche che sono dei grandi cofanetti di zinco mangiare un uovo a colazione un uovo a colazione per cinque giorni alla settimana anche questo vedete la citazione è validato dal punto di vista scientifico degli alimenti ricchi di fibre il carciofo di Gerusalemme è un alimento straordinario prebiotico ricco di fibre la cicoria perché contiene l'inulina l'inulina è una sostanza che simula lo zucchero pur non essendo lo zucchero l'alibut che è ricco di omega 3 è il nostro beta-glucano beh questi alimenti vi stanno già suggerendo una ricetta di possibili associazioni per simulare la sazietà ovviamente tutto va testato con degli studi clinici e anche randomizzati quando stiamo a tavola beh quando siamo a tavola siamo anche in presenza di più cibo vediamo queste tavole abbondanti che voi dovete sapere che stimolare con l'immagine col colore con la cosiddetta estetica del cibo significa indurre appetito ma è un appetito che non è legato essenzialmente ai meccanismi che vi ho fatto vedere è legato alla vista alla visione ecco perché ci si dedica molto anche all'estetica del pasto perché quello lo fa desiderare di più le induce maggiormente il consumo a tavola anche quando abbiamo meno cibo meno accessibilità di cibo beh in quel caso avendo meno cibo mangiamo meno noi mangiamo quello che abbiamo a disposizione quindi quello che ci rendono accessibile a livello dei supermercati a tavola quando abbiamo meno calorie beh tutti noi seguiamo due guide il gusto e le calorie entrambe però non ci garantiscono l'associazione perfetta tra alimenti che ci triggerano l'espressione di geni e ci promuovano un profilo di protezione l'armatura al cuore come vi ho detto e io ho avuto l'onore di conoscere John Gordon che è premio Nobel per la medicina nel 2012 gli iscrissi in un editoriale l'uomo che ha deciso di combattere la vecchiaia e ha vinto cioè ha scoperto dei meccanismi in base a quale sia possibile tornare indietro nel tempo biologico di una cellula e arrivare da un fibroblasto che è una cellula matura a una cellula staminali da lì ripartire la vita beh è possibile con gli alimenti se ben associati combattere l'invecchiamento questo è un esempio di due primati non umani Owen e Kanto si è visto che chi segue una dieta riccamente calorica con dei cibi pro-infiammatori che triggerano l'obesità è fenotipicamente più vecchio accelera la sua età mentre diversamente un piatto ipocalorico comunque associato vedete con la soia o l'aglio oppure vegetali è in grado di difendersi da quelle che sono l'espressione di geni pro-invecchiamento un vero è proprio tornare indietro nel tempo con l'associazione degli alimenti andando a modulare questi interrettori biochimici quindi andare in questo caso a ridurre quella che è il livello di metilazione del DNA e andare a favorire il livello di acetilazione sbrogliare e offrire per una traduzione dell'informazione e la convivialità avete sentito accendi un gene a tavola vi avrà ricordato aggiungi un posto a tavola di Gareni e Giovannini beh la convivialità è un po' alla base della nuova piramide alimentare come vedete c'è il sonno la convivialità vedete la biodiversità la stagionalità la tradizione locale dell'alimento sono nuovi alimenti che entrano grazie alla ricerca mentre in alto vedete il climate change l'air pollution che prima non si pensava potessero esserci una piramide alimentare piramide che ci ricorda quella degli egizi che sono stati i padri sono stati i primi non solo a favorire la lievitazione del pane ma anche a favorire la condivisione durante i pasti tendevano all'immortalità volevano l'immortalità e da questo punto di vista si avvaloravano di una serie di alimenti le spezie soprattutto e nella tomba di Tutankhamon hanno trovato immaginate delle anfore ricche di olio di cumino un olio essenziale ovviamente l'olio si è ressiccato ma le tracce facevano pensare che erano colme il cumino nero era considerato una spezia dell'immortalità ma perché? perché all'interno del cumino nero noi abbiamo una sostanza che si chiama timochinone che ha la capacità antiossidante difende contro la morte cellulare antinfiammatoria addirittura anticancro chemopreventivo questa è la reference per chi volesse leggere l'articolo per poter vedere che il dato è un dato prettamente validato dall'evidenza e quindi cosa fa il cumino nero il timochinone acetila gli stoni che sono come questi rocchetti del nostro tagliaerba intorno ai quali il DNA si avvolge per due spire e mezzo quindi favorisce l'apertura dell'informazione acetilare e nello stesso tempo mi va a metilare alcuni tag cioè alcuni punti del nostro DNA che non dovrebbero essere espressi e quindi vengono chiusi e non vengono più tradotti quindi potremmo dire tutta un'altra musica perché se noi riusciamo ad aprire e chiudere il nostro nucleosoma favorendo l'espressione di geni possiamo tranquillamente gestire quello che è il nostro futuro e quella che è la nostra salute posso rubare un minuto vado per cui arriva il concetto dell'epigenetica commestibile cioè quale pasto dall'alimento funzionale al pasto funzionale noi non mangiamo solamente il pastinacchio della garfagnana o due cucchiai di olio extravergine d'oliva noi associamo diversi alimenti funzionali ma come li associamo e da qui nasce l'aristoceutica questa nuova parola l'Accademia della Crusca l'ha definita una parola macedonia corretta dal punto di vista della costruzione da ristorazione a nutraceutica la nutraceutica è la scienza che studia come alcuni principi degli alimenti siano in grado di favorire un effetto protettivo nel nostro organismo l'aristoceutica invece va avanti dice come li associamo come li cuciniamo come li prepariamo e se li cuciniamo in determinato modo conservano le stesse proprietà o abbiamo un antagonismo abbiamo un'addizione abbiamo una sinergia è una scienza una vera e propria linea di ricerca che nasce nel 2016 alla Scuola Superiore Sant'Anna Istituto di Scienze della Vita viene considerata da tutti The Fork la considera una food experience addirittura addirittura uno dei trend anche se è una linea di ricerca non è un trend non è un brand non è un gusto non è una dieta è una scienza che vuole studiare come combinare gli alimenti tra di loro e da qui il libro Ristoceutica edito Mondatori con la cura redazionale di un medico il dottore Edoardo Rosati che mi ha dato una grande mano per cercare di mettere in ordine le mie poche idee confuse e abbiamo ottenuto un libro che recentemente è arrivato a New York City questo è un articolo sulla voce di New York perché il grande dilemma era come ci facciamo capire dagli americani che sono molto attenti soprattutto nel nome perché il restaurante è il restaurante però Ristoceutica è la I come facciamo? Beh gli americani ci hanno risolto il problema l'hanno chiamato Ristoceutics perché hanno usato la radice del Risto alla francese e questo per me è stato un gran piacere ma soprattutto ora vi porto un esempio conoscete questi due signori? Sì o no? Allora sono due premi Nobel della letteratura secondo voi questi due premi Nobel che cosa hanno in comune? Poeti le no? Chi me lo sa dire? Beh innanzitutto il Nobel hanno in comune perché una è una poeta polacca l'altra è Pabloni Ruda ma entrambi sono stati dei cantori dei poeti della cipolla rossa adoravano la cipolla rossa la cipolla rossa è un ingrediente straordinario contiene una sostanza che si chiama quercetina che appartiene alla famiglia dei polifenoli che ha delle proprietà vedete neuroprotettive antiossidanti psicostimolanti antivirali cardioprotettive antinfirmiatore e antitumorale queste tutte basate sull'evidenza quali sono gli alimenti che ne hanno di più? La cipolla ma anche i broccoli il tè nero la mela una mela al giorno toglie il medico di torno non a caso quindi 4,70 mg l'uva che vi ho fatto vedere all'inizio nella foto di famiglia e c'è tanta quercetina anche nel quello che noi scartiamo per cui la distocetica aiuta anche a evitare gli sprechi a valorizzare delle fonti di alimenti che potrebbero essere utilizzati e c'è una cosa interessante se io associo una fonte di quercetina come la cipolla che se io la cucino al forno aumenta la sua biodisponibilità con il peperone il peperone rosso ad esempio che è l'alimento a più alto contenuto di vitamina C io ho un effetto additivo cioè un effetto ancora maggiore dato dalla sommatoria dei singoli ma se io ci associo la curcumina ho una sinergia cioè un effetto esponenzialmente più alto vedete che bel piatto questa è una tartare di cipolla rossa capperi e pomodoro con curcuma cioè mezzo cucchiaio di caffè di curcuma simula quasi una tartare di carne ci abbiamo il cappero che è un'altra sorgente di quercetina ma anche di rutina questo ad esempio è un esempio di quello che potrebbe essere un piatto ristoceutico un'altra sinergia antitumorale ricercatori dell'Università dell'Alabama a Birmingham scopre che l'associazione di lenticchie e broccoli gesistine e sulforafane ha una sinergia antitumorale perché? perché riduce il livello di mitrazione e aumenta il livello di acetilazione a livello di alcuni tag per non parlare dell'inibitore dell'aromatasi voi sapete che parte del testosterone viene convertito in estrogeni anche nelle donne che ne hanno meno ci sono degli alimenti che sono in grado di inibire le aromatasi come il tè verde il resveratrolo dei semi d'uva la soia e altri invece che sono in grado di stimolare l'aromatasi come la liquirizia e l'alcol questo significa che chi è predisposto per dei tumori ormonodipendenti cioè che vanno avanti a estrogeni dovrebbe cercare in un certo qual senso di favorire quelli che sono gli alimenti sulla mia sinistra quindi tutti quelli che sono anche ricchi di fitoestrogeni chiudo con questa frase visto che oggi si parla molto di spazio chiudo così con Jean-Antin Brillant-Savaren che diceva la scoperta di un piatto io non l'ho mai conosciuto la scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti